allora cominciamo la la seconda parasha del libro dice molto che era parasha di va era perciò auguri a tutti cominciamo con tanto entusiasmo besotashem chi ha il libro può andare a vedere la pagina 102 gli altri hanno le coppie e così via adesso la parasha comincia così Dio parlò a Mosè e gli disse io sono Hashem anche qui questa frase è ovviamente da capire vediamo subito il commento numero due Dio parlò a Mosè in questo contesto la radice di ber ovvero parlare indica parole dure severe qui Hashem rimprovera a Mosè per essersi lamentato con le parole perché hai fatto del male a questo popolo se ricordate la parasha scorsa finiva con il fatto che Mosè arriva a salvare e il faraone si arrabbia e aumenta intensifica la schiavitù degli ebrei togliendogli la paglia no a quel punto Mosè dice ma Dio non ho capito perché fai del male a questo popolo da una parte mi mandi a salvarli e d'altra parte io sono causa della loro disgrazia aumenta allora perché Dio fai del male agli ebrei questo era l'ultimo argomento allora qui la parasha nuova comincia infatti va era vuol dire farsi vedere dimostrarsi alla qua Dio dice Dio parlò si fece vedere diciamo a Mosè e gli disse io sono Hashem cosa vuol dire abbiamo spiegato appunto che prima di tutto stiamo spiegando cosa vuol dire di ber che ha parlato ha parlato con la Dio sta rimproverando Mosè come mai tu Mosè fai domande su di me perché chiedi sul mio comportamento poi avanti sempre nel 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 commento io sono Hashem Dio dice io sono Hashem cosa vuol dire io sono Hashem tutto un tratto cosa vuol dire Hashem dice così con questa espressione Hashem si impegna a mantenere la sua parola dice io mantengo la mia parola che tu salverai il popolo anche se tu adesso vedi difficoltà io la mia parola la mantengo e dice mantenne e punendo i peccati dei egiziani e ricompensando per le sue buonazioni vuol dire non ti preoccupare farò giustizia chi riceve bene chi fa delle buonazioni riceverà bene che invece che gli egiziani verranno puniti perciò dice Hashem assicura a Mosè che la sua di Dio promessa ai patriarchi sarà mantenuta perché Dio promessa ad Abramo Giaco Giacobbe gli aveva detto i vostri figli i vostri antenati andranno in diaspora e poi li salverò faccio lui dice niente è cambiato la mia promessa io la manterrò e che Mosè è stato prescelto come esecutore di questa missione perciò Mosè non hai motivo di lamentarti niente è cambiato questo è il mio piano io salverò il popolo e tu sarai l'arrivo in Egitto di Mosè era stato seguito da un immediato inasprimento della schiavitù come abbiamo detto che lui quando è arrivato ha reso la schiavitù più difficile perché gli egizi non potevano essere oh oh adesso la spiegazione allora perché se Dio dici non ti preoccupare tutto sotto controllo e manterrò la mia parola allora perché che motivo c'era perché Dio facesse la schiavitù più difficile allora la risposta è perché Mosè anche se involontariamente ha causato l'inasprimento della schiavitù dice perché gli egizi non potevano essere puniti finché la loro misura di peccato non avesse raggiunto il limite massimo gli egizi non potevano essere puniti per quello che hanno fatto ok allora però non avevano ancora non erano ancora arrivati al limite massimo della loro colpa e allora guardate quella grandezza di Hashem essendo Hashem paziente anche con i malvagi e cioè in questo caso con gli egizi allora non poteva punirli già subito doveva fare un qualcosa che Mosè doveva scaturire diciamo il fatto che loro diventassero ancora più duri nello schiavitù perciò togliendoli la paglia per fare in modo che adesso sono arrivati all'apice del peccato adesso posso punirli perciò da una parte erano passibili già di punizione però Dio è clemente Dio è da sempre una chance ma non poteva ancora punirli per punirli doveva arrivare veramente a livelli ancora più gravi perciò dovevano diventare ancora più cattivi allora adesso sì che Dio può punirli è chiaro questo punto? vuol dire Dio anche a questi malvagi non subito li punisce dà l'occasione di smetterla ma più che altro non punisce subito dà aspetta che veramente arrivi a un livello di veramente meritarsi pienamente di essere puniti allora cosa succede? negando crudelmente la paglia agli schiavi però raggiunse il limite del tolerabile quando ha fatto questa cosa qui veramente basta era una cosa fuori non era più tolerabile quello che lui ha fatto il castigo dell'Egitto e il processo dell'Esodo avrebbero potuto finalmente cominciare la risposta di Mosè è guarda che io ho tutto un piano non posso punirli adesso ma adesso che hanno adesso che tu sei venuto e tra virgolette grazie a te Mosè hanno tolto la paglia grazie a te Mosè che hai reso la schiavitù ancora più difficile adesso sì che io potrò grazie al tuo intervento Mosè potrò cominciare il castigo dell'Egitto e il processo dell'Esodo finora era ancora così adesso sì che io posso cominciare tutto questo però raggiunse il limite del tolerabile il castigo dell'Egitto e il processo dell'Esodo avrebbero potuto finalmente cominciare Hashem disse quindi a Mosè che lungi dall'essersi recato in vano in Egitto non pensare a Mosè che tu sei andato lì per niente con il suo arrivo ha accelerato il processo dell'Esodo il cui inizio è ormai imminente perciò Mosè che lui è arrivato e ha peggiorato la situazione e dice a Hashem perché fai questo e Dio gli risponde guarda che è tutto sotto controllo il fatto che tu sei venuto e hai innescato una difficoltà superiore per gli ebrei questo fa parte già dei miei piani adesso sì che posso punirli come si deve prima potevo trattenermi adesso no adesso meritano totalmente di essere puniti e l'inizio dell'Esodo della salvezza è grazie a te perciò non ti preoccupare tutto sotto controllo è chiaro questo punto posso andare avanti con alcune domande? ok la prossima frase numero 3 e dice allora Dio parlò a Mosè e disse io sono Hashem dice come Dio onnipotente vuol dire con il nome di Shakai ricordiamoci Dio ha diversi nomi no? qua dice mi rivelai ad Abramo Isacco e Giacobbe con il nome Kel Shakai vuol dire la mia rivelazione era limitata a quel tipo di nome ma con il mio nome Hashem non mi resi noto a loro cosa vuol dire? lo vedremo anche poi più avanti scritto molto più chiaro qua succede che c'è un cambio dice fate attenzione un attimo dice così Abramo Isacco e Giacobbe io mi sono rivelato a loro ma non mi sono rivelato con il nome Hashem Yud Kei Vavkei allora Dio ha diversi nomi Elohim Shakai Yud Kei Vavkei Adne e così via ogni nome rappresenta un certo tipo di rivelazione il nome il nome di Hashem rappresenta il nome di la rivelazione di Dio al di sopra del mondo al di sopra della natura il Dio ogni potente per esempio il nome Elohim cosa rappresenta la Teva la la natura rappresenta quando Dio si comporta appare al mondo secondo la natura in un modo naturale non in un modo sovranaturale e così via qua Dio sta dicendo a Mosè io mi sono rivelato già prima di te Abramo Isacco Giacobbe ma non con il mio nome Hashem col nome onnipotente con la mia forza sopra la natura infatti fino a Mosè non c'è stato nel mondo grandi rivelazioni al di sopra della natura grandi miracoli se fate caso se non sfogliare il Bereshit Abramo Isacco Giacobbe non hanno avuto queste grandi rivelazioni di Dio Dio si è rivelato loro sempre mantenendosi con il nome Elohim vuol dire natura nella natura nell'andamento del mondo sono chiaro mi sembra di parlare ah penso vedo anche il dottor Messina più o meno sinceramente appunto allora ditemelo non è chiaro per me allora ditelo e io mi fermo siamo qua per imparare non per farmi parlare a vuoto ditemi ditemi chiedete il concetto è un po' più non ho seguito tanto dove si è persa allora qui senso dei nomi quello dei nomi ok benissimo una cosa che avevo già chiesto nel passato non mi è chiaro qualche nome a dire Dio ha diversi nomi fino a qui ci siamo no Hashem Elohim Shakai Shakai Kaya ok sì sì ci sono sono qui dimmelo se capisci ok allora Dio ha diversi nomi ogni nome rappresenta una certa rivelaz come Dio in quel momento si sta comportando col mondo per esempio per esempio Elokim è il Dio Dio della natura il Dio del DIN vuol dire quando Dio è giustizia Dio quando Dio sta facendo giustizia si chiama Elokim quando Dio è misericordioso si chiama Yudkei Vavkei Hashem quando io ringrazio è Hashem com'è? quando io ringrazio è Hashem o Ha Kadosh Baruchu non è un nome di Dio è un modo come noi lo chiamiamo è un nickname per dire Ha Kadosh Baruchu non appare non appare nella Torah è un nome che noi abbiamo dato è un soprannome Ha Kadosh Baruchu è come dire Hashem allora Dio ha diversi nomi e ogni nome rappresenta un modo di come lui si rivela nel mondo adesso quando Dio fa miracoli quando Dio si rivela al mondo in un modo sovrannaturale miracoli e cose evidenti allora quello è il nome di Hashem vuol dire Yud Hei poi Vai e poi Hei invece quando Dio si rivela in un modo più normale nel modo naturale si chiama Elokim oppure lo chiamo qua Shakkai cinque ci siamo perciò ci sono diversi nomi che rappresentano diversi modi di come una persona e di come Dio si rivela al mondo Dio appare in un certo modo Dio della giustizia a volte Dio della pietà no pietà giustizia dipende da come lui si vuole comportare allora qua quando viene a dire Dio sta dicendo a Mosè io mi sono rivelato già ad Abramo Isacco e Giacobbe ma in che modo io non ho fatto non mi sono rivelato a loro con il mio nome Hashem mi sono rivelato con gli altri nomi quelli della natura Elohim vuol dire infatti come dicevo prima all'epoca di Abramo Isacco e Giacobbe non c'erano miracoli eclatanti da Mosè perché Mosè poi viene a rivelare il nome di Hashem vuol dire i miracoli tutti i veri miracoli noi li leggiamo con Mosè in poi tutte le piaghe l'apertura del Mar Rosso la manna prima se andiamo a vedere tutto il libro di Bereshit non vediamo grandi miracoli non ci sono miracoli perché Dio non si stava rivelando ancora con la sua integrità con la sua potenza totale Dio si è rivelato a queste generazioni in un modo naturale in un modo basico chiamiamolo così ok Kaya allora qua dice all'epoca di Abram Isaac e Giacobbe io mi sono rivelato con loro in parte soltanto con il nome con gli altri nomi non con il nome Yud Kei e Vav Kei Hashem ma con il mio nome dice Hashem non mi resi noto a loro ho inoltre stretto il mio patto con loro per dare loro la terra di Kenan no 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 ho saltato troppo avanti finisce lì non mi sono rivelato con il nome di Hashem vuol dire qua adesso Moshe viene a portare al popolo ebraico e nel mondo intero una nuova rivelazione del nome di Dio vuol dire finora questo nome qua Hashem non è mai stato non si è mai presentato al mondo prima erano le altre tipi di rivelazioni Mosè adesso il suo compito è di fare conoscere al mondo intero anche questo livello il più alto che c'è del nome di Dio infatti se facciamo caso quando Dio perdono Mosè arriva dal Faraone e dice mi manda Dio a salvare a lasciare il mio popolo uscire cosa risponde cosa risponde il Faraone dice non conosco Hashem no chi è questo Hashem di cui tu vieni a parlare il nome suo io non conosco cosa vuol dire se andiamo a vedere cosa vuol dire profondamente lui non è che dice che non conosco Dio lui conosceva tanti altri dei conosceva il Dio Mucca che dava il latte il Dio il Dio Nilo il Dio se stesso era una divinità conosceva Elohim che è la natura questo sì ma Hashem questo nome grandioso che fa miracoli sovrannaturale lui dice questo Dio è un Dio nuovo per me capite questa ovviamente è la spiegazione chassidica la spiegazione profonda perciò qua Moshe fate attenzione Moshe sta arrivando a portare la rivelazione di un nuovo una nuova rivelazione di Dio nel mondo non quello che era finora il nome basico il nome Elohim che va secondo la natura che non fa miracoli quello era quello che Dio voleva adesso ma dice Dio adesso Moshe prima che arrivi in Matan Torah che tu vai e ricevi la Torah e la doni agli ebrei cosa succede? adesso c'è bisogno che anche il mio nome supremo di Yud Kei Vav Kei venga riconosciuto del nome perciò il Dio onnipotente il Dio dei miracoli il Dio che può fare tutto non soltanto il Dio che vuole giocare secondo la natura capite il punto qua da qua in poi Dio dà una nuova biglietto da visita possiamo chiamare così un'elevazione c'è un altro livello si sta non suo si si sta dando al mondo una nuova immagine di Dio prima ha usato altre sue immagini altri suoi comportamenti adesso dice adesso andiamo alla grande adesso devo dare la Torah Abramo era era lontano anni luce dalla Torah era l'inizio allora loro avevano bisogno soltanto di certe rivelazioni di Dio adesso dice Hashem Moshe adesso è step number two andiamo a secondo livello devo dimostrare anche Hashem la mia grandezza i miei miracoli la mia forza suprema perché perché per ricevere la Torah dobbiamo cominciare a portare più rivelazioni di me nel mondo è chiaro finora? Leggiamo il commento tre mi rivelai Rashi precisa mi rivelai a patriarchi con gli altri nomi il Rebbe di Rubavich pone la domanda cosa cosa aggiunge la spiegazione di Rashi alla comprensione del versetto se viene comunque immediatamente detto mi sono rivelato ad Abramo Isacco e Giacobbe Rashi quando dice mi sono rivelato dice ai padri ma la Torah lo dice già Abramo Isacco e Giacobbe perché perché Rashi deve venire a dirmi io mi sono rivelato ai padri l'ha scritto dopo Abramo Isacco e Giacobbe allora Hashem si era manifestato loro in quanto patriarchi del popolo ebraico e non soltanto in quanto persone spiritualmente molto elevate Avram Isacco e Giacobbe furono patriarchi del popolo ebraico poiché tracciarono ai discendenti la via da seguire perciò erano e questo che le neve patriarchi preoccupandosi di tramandare loro la propria fede Hashem si era quindi rivelato ai patriarchi in quanto appunto patriarchi non soltanto delle persone elevate patriarchi vuol dire i padri proprio quelli che il fondamento del popolo ebraico più che a ognuno di essi per le sue qualità individuali perciò non per quello che ognuno era ma per quello che erano in generale per questo Rashi precisa appunto ai patriarchi adesso adesso noi grazie a Davide Udella che mi ha mandato le foto che non avevo queste copie qua ci inoltriamo adesso in una spiegazione che il Rebbe ha dato che non è difficile assolutamente no però dobbiamo appunto fare un attimo di attenzione e per favore fermatemi e chiedetemi se no non riusciamo a costruire il palazzo adesso il titolo è una fede incondizionata la richiesta di Mosè al farone di liberare il popolo ebraico non solo non produsse risultati positivi ma fu ciò che abbiamo già detto la risposta di leggiamo scusate produsse risultati ma fu ciò che rese ancora più aspra e insostenibile la schiavitù Mosè quindi dice ad Hashem perché hai fatto del male a questo popolo la risposta di Mosè di Hashem fu di fatto il commento il comando di seguire l'esempio dei patriarchi che non gli posero mai domande perché adesso in una seconda frase che abbiamo studiato Dio dice ma io ai padri mi sono rivelato con questo nome con quell'altro cosa vuole dire qua Hashem che tipo di risposta è cioè Mosè sta dicendo ehi Dio perché fai del male al popolo ebraico e Dio risponde a loro ma guarda che io mi sono già rivelato i tuoi padri Abraham e Isaac e Giacobbe con quel nome che risposta è Mosè chiede una cosa e sembra che Dio risponda a un'altra cosa però ovviamente la risposta c'è facciamo attenzione dice così la risposta di Hashem fu di fatto il comando di seguire l'esempio dei patriarchi che non gli posero mai domande perché Hashem rimprovera Mosè dice ma i tuoi patriarchi non mi hanno mai chiesto come io mi comporto spiegazioni sul mio comportamento com'è che tu adesso vieni a chiedere spiegazioni sul mio comportamento e loro no chiederebbe sì inoltre nella profondità della virtù di Abramo Isacco e Giacobbe analizzando il motivo per cui Mosè invece pose domande e rivelando il significato esterno eterno e sempre attuale della risposta di Hashem perciò qua questa si fa che adesso leggeremo è una cosa geniale una cosa molto bella che il Rebbe dice dimostra la differenza tra i patri i patriarchi e Mosè ed è il fatto che perché i patriarchi non hanno mai chiesto domande su Dio su suo comportamento e tu perché Mosè vieni a chiedere e questa è la domanda perciò adesso vedremo la differenza di Mosè con i patriarchi ok punto numero uno la domanda di Mosè la parasha di Shemot si conclude con la domanda che Mosè pone a Dio perché ha fatto del male a questo popolo ok in altri termini come è possibile che una missione ordinata da Hashem compiuta da Mosè e che riguardava la redenzione dall'Egitto possa nuocere al popolo ebraico terza volta che lo chiediamo ok come mai ok la redenzione stessa era totalmente positiva ovvio Mosè l'emissario è definito dalla Torah come il buono perciò chi è buono non può portare male la redenzione anche non può portare male il redentore sarebbe stato Hashem stesso che è totalmente benevolo e misericordioso quale fu quindi la causa del danno subito da Israele perciò se Dio è buono se Mosè è buono se la redenzione è una cosa buona com'è possibile che ci sia qualcosa dentro di male la risposta data a Mosè all'inizio di questa parasha fu io sono Hashem mi rivelai ad Abramo Isacco Giacobbe ma con il nome Hashem non mi resi noto a loro come l'ho spiegato finora non mi sono dimostrato a loro liberato con la mia grandezza soltanto in parte in altri termini benché fossero stati sottoposti i padri a diverse prove e privazioni i patriarchi non posero mai domande questa vicenda presenta però diversi aspetti problematici uno Mosè aveva raggiunto un livello spirituale più alto di quelli dei patriarchi la sua era la settima generazione da Abramo e i saggi dicono i settimi sono particolarmente cari Mosè era il settimo il Rebbe anche il settimo dei Rebbe perciò tutto quello che è il settimo è caro perciò Mosè era superiore e aveva raggiunto ovviamente grazie ad Abramo e a Jaco e a Jacobe perciò lui la sua scalinata era arrivato più in alto di Abramo allora com'è possibile che fosse proprio lui Mosè a porre domande quando i suoi padri non avevano mai fatte queste domande 714 pagina questa è la prima domanda seconda in risposta a Mosè Hashem mette in risalto la verità dei padri quando Dio dice parla dei padri dice stranamente non dice mi rivelai al popolo non mi rivelai a Israël che invece ha che ha Jacobe Jacobe aveva due nomi Jacobe e Israël perché Dio lo chiama Jacobe doveva chiamarlo Israël perché quando il nome di Israël indica un livello spirituale superiore a quello di Jacobe lui dice mi sono rivelato ad Abramo Israël e Giacobbe ma il nome Israël è più alto di Giacobbe perché non usa quel nome anche qui è un una cosa per farci capire quello che capiremo fra poco perché usa il nome più basso di Giacobbe perché non usa il nome più alto tutto ciò che viene narrato nella Torah porta un messaggio personale a ciascun di noi vuol dire la Torah non è soltanto un libro di storia per sapere loro cosa hanno fatto è un libro che ci insegna noi cosa possiamo imparare dal loro comportamento si noti che essa di norma si sforza di non impiegare espressioni impropri sia nel scrivere un semplice animale sia riguardo a un ebreo e quindi a maggior parte allora qua dice se la Torah è così attenta quando deve dire un animale impuro per esempio la Torah non dice un animale impuro dice un animale che non è puro la Torah fa molta attenzione a usare sempre un linguaggio pulito un linguaggio positivo un animale che non usa delle parole in più anziché dire impuro dice che non è puro e sappiamo quanto la Torah è avara nelle parole tutto questo può dire che cosa figuriamoci se la Torah che non parla male neanche di un animale se la Torah viene a parlare male di Mosè questo è il punto qua una critica perciò quando una critica è rivolta a Mosè nella Torah deve quindi avere un motivo molto valido perciò se la Torah viene a sottolineare che Dio sta criticando Mosè ovvio che lo fa per insegnarci qualcosa mica per denigrare Mosè no? in questo caso sarebbe quello di trasmettere il dovere di emulare i padri qua ci viene a dire in verità Mosè doveva fare come i padri che non posero alcuna domanda sulla condotta di Hashem perciò Mosè tu che sei così superiore e anche superiore ai tuoi padri come mai loro non hanno posto domande accettavano sempre con fede completa e arrivi tu che sei superiore a loro no? e fai domande come se metti in dubbio Dio è chiaro è chiaro finora? qua Rebbe sta ponendo la domanda come mai Mosè è superiore ai padri loro hanno accettato tutto in silenzio tu Mosè vieni e poni domande è come se metti in dubbio Hashem la sua decisione ok questo pezzo lo saltiamo per non confondervi ulteriormente punto numero due vi è una differenza sostanziale oh adesso qua la risposta vi è una differenza sostanziale fra Mosè e i patriarchi fate attenzione Mosè in persona l'attributo della chokhmà della saggezza vi ricordate tante volte abbiamo parlato che ogni persona ha un carattere diverso ha modi comportamenti diversi ognuno per esempio c'è una persona che da lui elargire bontà è maggiore sono altre persone che al contrario sono più rigorose più chiuse e così via ogni persona ha diversi caratteristiche che sono più forti nel suo comportamento allora qua dice c'è questa differenza che noi vediamo c'è anche tra Mosè e i patriarchi sono personalità diverse vi è una differenza riprendiamo il punto vi è una differenza sostanziale tra Mosè e i patriarchi Mosè in persona l'attributo della saggezza della chokhmà e fu per questo che la Torah che è la saggezza di Dio ci fu data tramite lui ok perciò Mosè cosa rappresenta? saggezza infatti lui è quello che riesce a portare la Torah e darla tramite lui Dio ha dato la saggezza totale al mondo i patriarchi invece personificavano i sentimenti e le emozioni guardiamoci intorno sono delle persone che hanno molto intelligenza però magari hanno meno emozioni e al contrario ci sono persone che hanno tante emozioni però magari non hanno quella grande non sono spiccati mentalmente no? lo vedete no? guardiamo ognuno su di stesso può dire io sono una persona più di emozioni e magari meno di intelletto e un altro dice no io sono più di intelletto e magari meno di emozioni no? ognuno è fatto a modo suo allora cosa succede? Mosè era la persona di intelletto certo aveva emozioni aveva cuore ovvio ma in lui cosa spiccava? in lui spiccava maggiormente il suo intelletto Abramo Isacco e Giacobbe da loro cosa spiccava di più? i sentimenti il cuore elargire per fare un esempio Abramo sta parlando con Dio Abramo sta parlando con Dio a un certo punto vengono degli ospiti e cosa fa Abramo? lascia Dio e va a parlare con va a dare cibo agli ospiti perché era una persona di cuore e così lo erano Isacco e Giacobbe perciò i patriarchi erano più persone emotive di cuore Mosè era più una persona di intelletto ok? qua abbiamo capito la differenza tutto questo per capire la domanda perciò Abramo appunto servì Hashem essenzialmente con amore e misericordia il suo rapporto con l'uomo e con Hashem era caratterizzato dalla bontà spirituale e materiale come abbiamo detto Isacco il suo figlio era simbolo dell'operato spirituale spinto dal timore Abramo era amore e Isacco era timore la Torah definisce Hashem come il timore di Isacco ok quest'ultimo per la sua indola Isacco non poteva tollerare il peccato stiamo spiegando le diverse caratteristiche dei pad lui era così una persona di timore che da lui non esisteva il peccato aveva paura del peccato faceva attenzione a comportarsi per non pecare Isacco la sua vista ad esempio si offuscò a causa dell'idolatria delle moglie di Esau le sue figlie le sue nuore che facevano idolatria lui era così distaccato dal peccato che addirittura un po' di fumo di idolatria l'ha ceccato l'ha colpito anche fisicamente infine Iacov personifica la misericordia il dio di mio padre di Abramo il timore di Schakome è stato con me asseriva riunendo in sé entrambi i modi di servire Hashem praticamente ragazzi Abramo elargiva amore Isacco era contrario era rigore attenzione infatti Abramo e Isacco era attentissimo al peccato Giacobbe era un miscuglio tra Abramo e Isacco non era soltanto elargire e soltanto amore non era soltanto essere chiuso avere timore essere rigido Giacobbe era un po' di amore un po' di rigidità quello che ci vuole nella vita amalgamare tutti gli aspetti ok bravo bravo yes yes appunto questa loro tendenza estrema di Abramo e di Isaac li hanno portati ad avere un figlio sbagliato esatto bravo mentre questa unione armoniosa di queste due Midot ha portato Iacob ad avere dodici figli e le dodici tribù spiego le tue le tue parole giusto lui dice giustamente Abramo che era che parola ho usato non estremista ma era estremamente estremamente buono estremamente largiva ha avuto uno dei suoi figli non era un tzaddik era Ishmael perché molte volte quando troppo permetti troppo ami troppo allora non riesce a vedere di difetti una persona non riesce a riprenderlo non riesce a aiutarlo a migliorare perciò lui ha avuto un figlio che non andava bene d'altra parte Isacco il figlio di Abramo il figlio giusto di Abramo anche lui era troppo estremamente rigoroso rigido chiuso al contrario proprio del papà anche questo non va bene ogni estremismo non va bene perché lui ha causato di avere un figlio che si chiamava Esau che aveva il comportamento di Esau arriva Giacobbe che è amalgama queste due ma non queste due poli opposti ma li mette insieme e li fonde e li usa insieme in un mondo dolce allora lui ha avuto tutti i figli che erano tutti tzaddikini perché perché gli estremismi da una parte o dall'altra portano a dei picchi che non sempre l'umano riesce a a percepire erano tutti e due tzaddikini ma bravo Isacco erano tutti e due grandiosi però nel mondo nel rapporto con il prossimo non tutti riescono a percepire così tanto amore o così tanto chiusura Giacobbe invece amalgama bellissimo grazie qui tutte le sue siamo tre righe dal basso tutte le azioni erano perfette di Giacobbe sia che si trattasse di affrontare la prova della ricchezza quando si trovava ad Alavan e si arricchì immensamente sia nel sostenere l'ansia del giudizio causata da Esav praticamente in tutte le sue situazioni della vita Giacobbe era capace di sia nell'alto che nel basso era capace di di rimanere sempre allo stesso stadio di perfezione ma aveva picchi era sempre questo ovviamente non significa che i patriarchi fossero privi di saggezza perciò qua stiamo parlando non perdiamo il punto qua la domanda è la domanda è perché i padri non hanno posto domande e tu Mosè arrivi e poni domande questa è la domanda principale poi qua il Rebbe si inoltre si addentra a spiegare i comportamenti di Avram e Giacobbe per spiegarci che loro erano persone maggiormente di cuore persone di emozione invece Mosè abbiamo detto che era persona di intelletto oh questo non significa che Mosè era solo intelletto senza cuore e loro fossero cuore senza intelletto sicuramente tutti avevano un po' di tutto ma in Mosè spiccava di più l'intelletto e loro spiccava di più il cuore Mosè dal canto suo aveva in sé compassione e austero giudizio compassione quando ok saltiamo perché non voglio confondermi tuttavia la qualità principale di Mosè era la saggezza ok l'abbiamo detto finora abbiamo domande circa cosa che veramente non è chiaro Kaya Berlain Giusei è fatto tutto bene è fatto tutto bene stiamo stiamo creando poi alla fine la lezione se non è chiaro poi adesso siamo ancora in mezzo a creare il palazzo punto numero tre è ora possibile cogliere il motivo adesso capiamo perché Mosè era bene se è veramente più alto dei padri perché poni domande allora dice adesso capiamo perché Mosè fa domande e loro no malgrado la sua superiorità sui padri fu colui che pose a Shem una domanda sulla condotta sulla condotta sapete perché l'intelletto che lui rappresentava che lui aveva molto spiccato infatti vuole capire e ciò che l'uomo non riesce a comprendere diventa un ostacolo al suo progresso Mosè voleva delle risposte delle spiegazioni a ciò che gli risultava incomprensibile per poter progredire nella via nella via dell'operato spirituale secondo il modo di Mosè di essere che è tutto basato sull'intelletto l'intelletto quando trova un qualcosa di non chiaro si blocca deve avere chiarezza deve avere risposta a tutte le domande Mosè arriva qua a una situazione che vede una cosa che non capisce non sta mettendo in dubbio la grandezza di Dio ma secondo il modo di essere di Mosè se io non capisco tutto ho difficoltà a crescere ho difficoltà a connettermi totalmente con Dio secondo il suo modo di essere giusto o sbagliato non è questo il punto allora Mosè vuole crescere vuole essere un bravo una brava guida un bravo pastore però alt c'è qualcosa che io non capisco qua non sto mettendo in dubbio te Dio ma voglio capire perché sei fatto questo perché io essendo una persona primariamente di intelletto se non capisco mi blocco conosciamo persone del genere no? che se non capiscono una virgola di qualcosa si bloccano Mosè essendo intelletto se c'era anche una piccola virgola che non gli tornava chiaro a lui non andava bene lui doveva capire perciò lui chiedeva una cosa per sé Dio aiutami a capire perché io voglio crescere voglio connettermi con te al cento per cento e io come sono fatto se non capisco al cento per cento non mi va bene la risposta che Mosè ricevette Dio cosa gli risponde a questa domanda gli risponde io sono Dio io sono Hashem mi rivelai ad Abramo e a Giacobbe ma non con il mio nome di Hashem come mi ha spiegato prima a loro non ho rivelato questo nome lo rivelo a te prima a qua spiega adesso quello che abbiamo detto a voce prima del dono della Torah Dio si manifestava solo come Elohim in una rivelazione limitata che lo presentava così com'è così com'è nel mondo così com'è Dio lo rivelava nel mondo il mondo della pluralità in cui il nome Elohim infatti che in ebraico è al plurale prima era il mondo da pluralità poi è venuto il Dio onipotente io sono il Dio prima di dieci comandamenti non c'era l'idea nel mondo del unico Dio era tutto pluralità infatti Elohim è al plurale dopo aver ricevuto la Torah Hashem si rivelò con il tetragramma le quattro lettere nella sua qualità di infinito finora Dio non era era sempre infinito ma non si è rivelato al mondo nella sua infinità di trascendente qualunque separazione di unità in quel momento le separazioni tra l'alto e basso tra le emozioni e intelletto si dissolsero completamente adesso questa è una lezione un po' particolare un po' più difficile del solito va bene adesso dice Dio io voglio non ci deve essere ripetiamo in quel momento le separazioni fra i poteri eccelsi e quelli inferiori prima Dio ha detto quello che è superiore è divino deve mangiare divino quello che è materiale perciò i mondi bassi non devono salire in alto gli angeli non devono avere a che fare con tutto quello che è celeste non devono avere a che fare con il mondo materiale perciò c'era una netta separazione prima del dono della Torah perciò alto e basso erano separati anche intelletto e emozioni erano cose separate quando arriva adesso il momento di Dalla Torah tutte queste barriere si devono togliere tutto quello che è supremo deve scendere giù in basso il mondo anche si deve elevare ci deve essere sia intelletto e emozioni e non separazione tutto questo per dire che ciò che Hashem disse a Moshe fu quindi ora che ti trovi alla soglia di una redenzione che culminerà con il dono della Torah devi superare le distinzioni fra saggezza e sentimenti tu Mosè sei solo saggezza adesso adesso non puoi più devi mettere anche in sentimenti non puoi vivere soltanto con una cosa con un modo di essere perché fra poco dicevrai la Torah e allora la Torah è tutto la Torah non è soltanto saggezza la Torah è saggezza ma è anche sentimenti no? essendo la Torah che racchiude sia saggezza che sentimenti dice Mosè non puoi rimanere in Mosè di prima che soltanto saggezza è soltanto devi capire metti anche del sentimento dentro devi anche far spiccare il tuo sentimento la tua fede pur essendo essenzialmente un uomo di saggezza devi saperla fondere armoniosamente con le capacità spirituali di provare una fede che non pone domande attenzione Mosè non è che gli manca la fede ma gli ha detto in pratica a Mosè devi diventare un Hassid bravo non solo devi mettere il cuore esatto qui Mosè stava andando soltanto con il capire io gli stai dicendo Mosè è bello capire ma non tutto non sempre un umano può capire tutto non puoi bloccarti non puoi fermare la tua crescita solo perché non capisci una cosa gli umani tante cose non capiscono allora devi iniettare dentro di te anche il concetto della dei sentimenti il sentimento che cos'è la fede è quando appunto il cervello non arriva più a capire una cosa in quel punto la fede è qualcosa che va al di là del cervello perciò Mosè non in inglese si dice get out from the box in italiano non so cosa dice vuol dire esci dal cos'è italiano? vieni fuori dalla scatola non so ah sì c'è anche italiano esci dal il senso è più 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 sensato come si dice è il tuo guscio sì vuol dire non limitarti a essere soltanto intelletto ti dai tuoi consigli dai tuoi libri ecco grazie grazie non limitarti a essere soltanto intelletto espanditi metti anche metti anche appunto sentimento che porta appunto alla alla fede e questo è un sentimento a noi questo è un sentimento a noi ci sono delle persone veramente soltanto di intelletto nudo e crudo è bellissimo un intelletto ma se non lo sposi con il sentimento diventa brutto perché Dio tu non potrai mai capirlo noi umani non potremmo mai capire Dio nella sua interità nella sua integrità allora cosa succede se una persona è dominato soltanto dal suo intelletto quando c'è una cosa nella vita che non capisce e ce ne sono tante di cose che noi non capiamo diventa acido diventa si chiude in sé si può allontanare anche da Dio perché non capisce una cosa posso fare la domanda allora questo è collegato alla misvot che è quella che non capiamo certamente ovviamente brava Dio apposta ci ha dato la categoria della misvot che si chiamano chukim che sono quelle misvot che Dio ti dice fai ma noi non capiamo perché la motivazione e Dio non ci dice perché 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 Dio vuole che ci abituiamo anche a fare quando noi non capiamo nessuno potrà mai capire Dio neanche il più grande saggio neanche Mosè neanche Mosè riesce a capire Dio nella sua integrità infatti vedi che chiediamo domande anche Mosè allora umani Dio non lo prenderemo mai completamente quando avrà Mashiach un altro discorso ma oggi con i nostri limiti allora se tu sei limitato e tu vuoi capire sempre tutto allora non potrai veramente connetterti con Dio allora oltre all'intelletto devi è un must introdurre anche il sentimento vuol dire sottomissione a Dio qui è l'annullamento esattamente esercizi di annullarsi è sempre lì Chaya tutto gira intorno a questo certo torai questo perché se tu non annulli chi ha visto Dio nessuno ha visto Dio anche se l'hai visto lui ti dice fai questo perché devi fare questo io non voglio fare questo l'attura è annullarsi ma annullarsi non vuol dire che non vali niente attenzione annullarsi vuol dire che per arrivare alla tua vera essenza ti devi annullare ovvero diventare tutt'uno con Dio annullarsi non vuol dire io non esisto io sono no annullarsi vuol dire Dio mi ha creato io ci sono io devo mettere da parte il mio intelletto quando io non capisco devo mettere da parte i miei desideri e fare quello che Dio mi chiede anche se io non capisco questo è Torah perché arriva una persona un Dio che ti dice dieci comandamenti 613 mitzvot e questo sì e tutta la nostra vita cos'è? dalla mattina alla sera è sì no sì no non è possibile che un umano possa fare questo se non hai se non ti sottometti a Dio se non ti annulli alla sua volontà non potrai mai essere un ebreo che fa le mitzvot perché? dici no a me non va perciò questo che impariamo oggi il succo che cos'è? che Dio dice a Mosè tu sei intelligentissimo sei il numero uno nel mondo ma devi mettere anche sentimento nelle tue azioni nel tuo rapporto con me non basta soltanto intelligenza anche sentimento ovvero appunto annullarsi fede e così via quanto a Mosè egli avrebbe dovuto far sì che la sua saggezza avvolgesse le emozioni e che esse le emozioni a loro volta la avvolgessero con Kabbalat vuol dire accettare il gioco di Dio della fede l'alto faccia la conoscenza e il basso il tallone devono penetrare l'uno nell'altro ve lo dico a voce ragion per cui prima quando dice Abramo Isacco e Giacobbe perché dice Giacobbe e non Israele Israele erano più alto appunto il tallone di Giacobbe vuol dire Mosè deve essere alto perciò apposta la Torah guardate la genialità del Rebbe che capisci anche il perché Dio usa un nome e non un altro perché Giacobbe è il nome più basso perciò sì di arrivare fino in basso fino al tallone perciò capire è bene ma a volte non capire è anche bene è anche una bella è un bel modo di connettersi con Dio come diceva Ravroda no? bisogna capire che non capiamo niente vuol dire quando tu metti da parte il tuo intelletto il tuo la mia mania di dover capire tutto allora sì che diventi un bravo ebreo perché? perché accetti Dio anche quando non capisci vuol dire il tuo ego capire molte volte è ego ah io devo io devo capire quando sta da capire è bene capire ma a volte mettiamo da parte noi stessi diciamo Dio io non capisco lo faccio perché tu me lo chiedi lo faccio perché mi fido di te questo è quello che Dio sta adesso iniettando in Mosè Mosè finora andavi bene così come eri così come andavano bene anche i tuoi padri avranno anche Giacobbe ma da ora in poi che stiamo andando verso il Sinai a prendere la Torah non va più il Mosè non va più bene il Mosè che eri finora devi aprire le tue le tue vedute non soltanto intelletto inietta anche emozione perché la Torah è un miscuglio tra intelletto e emozione sto saltando vi sto facendo il riassunto andiamo all'ultimo punto chi vuole seguire la pagina 717 le ultime righe allora adesso facciamo tutto il finale la risposta di Aschen per concludere ok almeno chi si è perso finora o tutto non era chiaro adesso queste poche righe concentriamoci un attimo la risposta di Aschen alla domanda di Mosè era quindi che pur senza rinunciare al suo carattere di uomo di grandiosa saggezza Dio non sta dicendo a Mosè togli il cervello no rimani quello che sei però aggiungi allora dice la risposta di Aschen alla domanda di Mosè era quindi che pur senza rinunciare al suo carattere di uomo di grandiosa saggezza non devi rinunciare a questo egli avrebbe dovuto animarla con le emozioni dei patriarchi ciò affinché la sua fede di Mosè divenisse incondizionata senza domande e affinché fosse in grado di tradurre la sua saggezza in azione Dio non ci sta dicendo non fatemi domande chi dice non fare domande e chi ha paura chi dice non chiedermi come osi a chiedermi è perché non ha risposte non è questo il caso di Dio Dio ha risposte attenzione a non a non capire sbagliato Dio sta dicendo la fede non ti deve neanche se tu quando il tuo cervello non capisce innesca la fede che ti fa accettare tutto lo stesso non vuol dire che non devi fare domande domande vanno fatte perché le risposte ci sono ma anche con tu non capisci la risposta o non ti viene data una risposta se sei soltanto con cervello ti perdi invece hai anche fede allora rimani a galla ecco il popolo ebraico da Abramo finora se noi avessimo soltanto fate un attimo guardatevi il film veloce di Abramo Isacco Giacobbe Mosè e poi tutte le seconda guerra mondiale i pogromi Russia tutto quello che abbiamo passato che ci vogliono dal primo istante vogliono sterminare il popolo ebraico siamo un popolo che soffre di attacchi da tutte le parti se noi fossimo soltanto un popolo che segue la logica avremmo già dovuto estinguersi già da Abramo non c'è una logica nella nostra storia la storia del popolo ebraico non è una storia normale è sovrannaturale non è normale che siamo ancora vivi siamo un piccolo in numero nel mondo mi sembra 0,01% eppure facciamo tanto baccano nel mondo tutti ci conoscono tutti ci odiano perché? perché non è il numero che importa è chi sei che importa una volta mio cugino tra l'altro mio cugino diceva ma io non capisco diceva ma noi siamo un popolo piccolo no? perché allora i rabbini la fanno così difficile difficile noi dobbiamo essere come i musulmani diceva dobbiamo andare in giro a convertire tutte le persone io così non è assorbante non è uno così un laico un laico ma è uno studioso dice noi dobbiamo essere come i musulmani di convertire il più possibile aprire le porte in modo di diventare un popolo grande anche di numero e io ho detto chi ha detto che il numero che la quantità è la cosa più importante è la qualità che conta noi siamo pochi di numero ma abbiamo la Torah abbiamo le leggi di Dio tramandiamo Dio nel mondo questo per dire che perché l'ho detto non mi ricordo l'argomento perché l'ho detto siamo pochi e facciamo tanto baccano sì per dire che non è logico che un popolo così piccolo di numero che ci vogliono uccidere da Abramo dal primo ebreo e oggi siamo ancora vivi e siamo ancora qui a studiare a torà a migliorare a fare scuole perché perché noi non andiamo soltanto con l'intelletto perché non ha nessuna logica noi andiamo anche con il sentimento immettiamo anche la fede la fede che noi abbiamo è una cosa per fortuna che ci è stata iniettata dentro perché dico per fortuna perché magari non saremmo capaci di trovarla questa fede ma la fede è già dentro di noi capite uno non deve cercare la fede uno deve spolverare la fede che c'ha in sé Abramo che era un uomo di fede Abramo no? che Dio gli ha detto vai ucciti il tuo primo genito lui correva per ucciderlo per sacrificarlo questa è fede c'è scritto che Abramo ha iniettato a tutti i suoi figli fino a noi oggi la fede fede è già dentro di noi dobbiamo semplicemente spolverarla e rivelarla e questo è quello che Dio sta dicendo a Mosè tutte e due finiamo il duplice processo di rivelazione avvenuta sul Sinai durante il quale durante il quale i mondi superiori scesero verso quelli inferiori e questi inferiori ascesero verso i mondi superiori perciò non più differenza tra spirito in materia ma amalgamare spirito in materia ebbe così la sua controparte nella vita spirituale umana perciò intelletto scese nel campo dell'azione e il tallone di Giacobbe perciò accettare la volontà di Dio ascesi fino a donare all'intelletto la fede incondizionata di cui era carente cioè vedete prima della Torah i mondi alti erano separate dai mondi bassi spiritualità e materialità con i dieci comandamenti si sono rotte le barriere tutto deve diventare uno un unico mondo così anche tra intelletto e emozione tra intelletto e fede si deve amalgamare perciò i tuoi padri erano soltanto fede tu finora sei soltanto intelletto Mosè adesso devi diventare come i tuoi padri devi rimanere quello che sei e in più devi accettare su di te la fede dei tuoi padri questo è il punto perciò noi dobbiamo avere tanto intelletto studiare tanta Torah capire il più possibile perché ci aiuta a avvicinarci a Dio ma anche fede perciò quando succede una cosa che io non capisco non perdere non rompere il tuo collegamento con Dio innesca il pilota automatico che è la fede quando il pilota dell'aereo vuole dormire un attimo sta male o quello che è cosa fa schiaccia il bottone pilota automatico fede vuol dire quando il cervello non ti funziona più innesca la fede non ti allontanare da Dio questa è quindi la lezione che ciascuno deve trarre dal biasimo di Hashem a Moshe perché allora perché la Torah viene a raccontare che Dio usa parole dure con Mosè i più eccelsi e i più infimi fra gli ebrei devono operare assieme i capi tribù devono scendere e vivere amorevolmente tra i taglialegna e quelli che riportano l'acqua che a loro volta devono elevarsi studiando la Torah e compiendo le mitzvot in maniera ottimale non ci deve essere ah questo è il rabbino ah questo non lo sa studiare no siamo tutti uno ognuno deve aiutare l'altro ci sono tante cose che un rabbino può insegnare a un ebreo semplice ci sono tante cose che un ebreo semplice può insegnare a un rabbino come comportamento come emozioni come fede molte volte gli ebrei semplici hanno molta più fede di un grande studioso succede che perciò non mettiamo rompiamo queste barriere il bar ha rotto tutte le barriere tra i studiosi e i meno studiosi siamo tutti un popolo unico perciò e compiendo nessun ebreo eppure neppure un capo tribù può permettersi di isolarsi dal mondo a causa del suo studio della Torah e trascurare il gioco di Dio la sottomissione questo potere di congiungere i mondi superiori e quelli inferiori è l'eredità lasciataci da Mosè Dio ha preso Mosè e l'ha elevato e gli ha iniettato la fede che noi dobbiamo imparare da Mosè tutti e due questi canti tale condotta che in quella circostanza che in quelle circostanze portò all'esodo dell'Egitto perciò tutto questo ricordiamoci era l'inizio dell'esodo perciò il cambiamento di Mosè il cambiamento perciò il cambiamento deve essere da te tutto tutto comincia da te Mosè come conduttore condottiero anche dell'esodo lui stesso doveva diventare una persona nuova a un livello diverso ma ciò dice ultime tre righe tale condotta che in quelle circostanze portò all'esodo dell'Egitto sarà per noi la chiave che ci aprirà le porte della redenzione finale con il Mashiach una redenzione che supererà tutti i limiti e tutte le barriere perciò così come Mosè Gio gli ha detto non puoi essere il conduttore dell'esodo se tu rimani soltanto a livello intellettuale prendi anche fede così anche noi quello era un esodo anche noi abbiamo l'esodo che aspettiamo la venuta di Mashiach ci porterà a una salvezza perciò anche noi come Mosè Dio ci chiede ehi non soltanto intelletto metti anche emozione metti anche fede metti anche sottomissione non soltanto capire 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 è importante ma emozione fede sottomissione è anche importante io trovo questo forse non tutti i passi erano facili forse erano diverse dal solito certo non era semplice come al solito ma io questa si caderebbe lo trovo geniale di come lui riesce a prendere tutta questa storia secondo me riguardatevi la lezione quando domani esce con calma riguardatevi i testi fa vedere come tutto viene da te non è una cosa che tac arriva dall'alto anche Mosè quando è arrivato non era Mosè che arriva fa ocus pocus salva e porta via il popolo no c'era tutto un tragitto un percorso Dio non vuole cerchiamo di capire perché un anno intero perché Dio quando ha mandato Mosè non ha potuto in un attimo salvarli e portarli fuori ancora un anno di schiavitù ancora un anno di sofferenza perché Dio voleva che gli ebrei fossero pronti alla redenzione mentalmente gli ebrei erano lontani in ogni luce dalla salvezza spirituale erano ancora tant'è che quando sono usciti nel deserto ancora erano ancorati all'Egitto però erano già migliorati capite ogni cosa da Dio non esiste il miracolo dai vieni che ti salva dai vieni che ti no la redenzione da Dio cos'è è un cammino è un processo che va guadagnato ogni passo è una cosa in più perciò gli ebrei avevano all'epoca bisogno di tutto un percorso per uscire dall'impurità dell'Egitto dalla loro mentalità sbagliata che avevano perciò avevano bisogno che Mosè stesse con loro e li elevasse così anche noi oggi noi oggi vogliamo Mashiach la salvezza non è un miracolo tac arriva Mashiach è un percorso che tutti noi dobbiamo incanalare vivere questo percorso è un percorso che noi dobbiamo cambiare migliorare noi stessi la redenzione esteriore tramite una persona esteriore cioè Mashiach non può avvenire se tu non ti sei auto così dice redento dobbiamo redimere ognuno noi stessi mentalmente affinché ci possa essere anche la redenzione esterna quella che noi aspettiamo ma non puoi non puoi non puoi pretendere non puoi pretendere la salvezza se tu ancora sei in Egitto non parliamo di una salvezza fisica cosa ci vuole prendere le ebraie e toglie dall'Egitto non ci vuole niente ma mentalmente loro erano ancora dentro l'Egitto e lo siamo anche noi finché mentalmente noi siamo ancora sottomessi alla bellezza del mondo e alle cose del mondo ai peccati del mondo eccetera non riusciamo a redimere noi stessi impariamo a almeno interiormente redimere noi stessi e questo porterà alla redenzione finale tramite Mashiach io la trovo geniale questa lezione qua era diversa era profonda era difficile ma queste parole del Rebbe sono geniali bellissima lezione era bellissima una delle più belle che l'ho sentito aspetteremo Mashiach con più con più felicità amén 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 ma qualcuno ha sicuramente avrete le domande o qualcosa sentiamoci ma infatti l'America le fa bene lei è proprio illuminato oggi sì perché da me ancora giorno per quello ah ecco scusa volevo fare la domanda io prego poi c'è la rivelazione del nome vuoi invitare Moshe Rabbenu fare domande eh no vabbè vorrei fare una domanda così tanto per capire che vuol dire la rivelazione del nome divino nel mondo se il mondo arriverà con Mashiach non c'era prima vuol dire la rivelazione arriverà quando arriverà non è che c'è stata il momento che noi l'abbiamo capita o interpretata non credo che l'hanno interpretata anche gli altri la rivelazione del nome no allora lei dice così se ho capito quello che le chiede allora lui dice prima prima di Mosè perciò Abrame Esacco Giacobbe hanno avuto una rivelazione di Dio parziale Dio non si è aperto a loro totalmente infatti non c'erano miracoli in tutto Bereshit a me non mi ricordo non mi sembra che ci siano dei miracoli grandiosi da Shemot in poi con Mosè ci sono tutti i miracoli perciò Dio Dio si è rivelato a Abrame Esacco Giacobbe a quelle generazioni come dicevo prima in modo basico non in modo supremo nella sua integrità ha dato un po' della sua rivelazione da Mosè in poi da Mosè in poi Vitale aspetta un secondo magari ci vuoi dire qualcosa anche tu da Mosè in poi Dio ha dato una rivelazione di se stesso al mondo molto più grande più intera più vasta e più imponente e più evidente miracoli e cose varie e questo è quello che chiede Gina? Sì grazie al mondo intero vuol dire tutti hanno visto quello che è successo al mondo intero ecco c'è scritto che quando Dio dava dieci comandamenti tutto il mondo era in silenzio a sentire anche gli uccelli non cinguettavano certo allora c'era una rivelazione così grande che di natura tutti erano in silenzio immobili per accettare questa cosa qua anche un uccello che non c'ha non puoi dire all'uccello stai zitto che Dio sta parlando però lui ha capito che deve stare zitto bellissima bella grazie prima con la brasa che dice Giacobbe questo non c'era questo è nato da Mosè in poi grazie Gina Vittor dici qualcosa e poi vai no no niente niente da aggiungere bellissima come sempre grazie basta basta vai pure vai pure chi altro voleva dire allora Davide dottor Misina chi vuole cominciare ma a parte la grandiosità di questa lezione che veramente d'angolo la pietra d'angolo insomma ma a me ha colpito molto oltretutto insomma quando dice che prima della Torah c'è una pluralità anche del nome lo Kim che crea il molteplice bravo quindi la pluralità dopo la Torah c'è un ritorno all'unità è un po' come durante la settimana e durante lo Shabbat perché durante lo Shabbat si dice vai annafesh ritornò nella sua anima ritornò nella sua unità quindi lo Shabbat è il simbolo dell'unità di Kadosh Baruch Hu dice vai annafesh tradotto di solito si riposò ma vai annafesh vuol dire tornare nella sua anima no cioè tornare nell'unità quindi nello Shabbat come pure dopo la Torah c'è la manifestazione dell'unità di Kadosh Baruch Hu e poi giustamente le diverse qualità di manifestazione Shakai Elohim Puriyud Hei Valhei veramente interessante e soprattutto per concludere in assolutamente breve dobbiamo essere animati dalle emozioni dei patriarchi per unire l'Aukma Ale Midot insomma cioè la casiduta è non soltanto il razionalismo eccetera ma emozioni cioè le emozioni e cervello insomma non si vive soltanto o di uno o dell'altro no si vuole un equilibrio che poi è Tiferet questo equilibrio è Tiferet che è Giacobbe esatto cioè Israele a questo punto bene bene grazie grazie Dottor Messina Lina vuol dire qualcosa? avevo una domanda Kabbalat Ol è qui nella quarta linea dice nessun ebreo può permettersi di isolarsi dal mondo a causa dello studio della Torah e trascurare la Kabbalat Ol non capisco il nesso forse tra il studio della Torah e la Kabbalat Ol ah quella che abbiamo saltato però no no non l'abbiamo saltato la Takkarat Eze dimmi che pagina dimmi che pagina scusami 717 ed è la quarta linea dalla fine ah allora ah questo uno due tre quattro questo può nessun ebreo neppure un capo tribù può permettersi di isolarsi dal mondo ah ok 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 nessun ebreo neppure un capo tribù può permettersi di isolarsi dal mondo a causa dello studio della Torah ah brava 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 è saltato perché era spiegato nella pagina 216 sì primo pezzo no 716 sì l'ho saltato apposto sì sì praticamente andiamo a vederlo da dentro già che lo chiedi diciamo le parole esatte eccolo qua era il numero 6 se non sbaglio sì questo è il motivo il pezzo che lo spieghi sì sì ma voglio voglio arrivare proprio il punto perché molte volte quando lo studio della Torah cos'è è comprendere no studio di Torah e comprendere allora molte volte lo studio della Torah che è soltanto comprensione può a volte chasse shalom portarti a non avere sottomissione ma cabalat ol è sottomissione che cabalat cabalat vuol dire accettare il gioco molte volte quando tu studi Torah vuol dire che è soltanto intelletto da te a volte il troppo intelletto appunto non ti fa ricevere il gioco della Torah però un attimo la Torah in realtà ti porta a prendere il gioco ma la persona qua parliamo della persona Alina se una persona studia male la Torah nel senso lo studia soltanto per il suo ego soltanto per il suo capire allora lui sta sbagliando il metodo di studio e la Torah anziché essere una cosa buona per lui lo allontana dal gioco ma non la Torah la persona che usa male la Torah capite infatti c'è scritto in un'altra parte infatti c'è scritto in un'altra parte che la Torah può essere o Sam Achaim o Sam Amavet vuol dire o una medicina che dà vita o anche può essere una medicina che uccide un 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 poison un veleno che uccide perché non perché la Torah è velenosa come noi usiamo la Torah può essere tossica e questo è il punto anche la Torah che il massimo del massimo usata in un modo sbagliato può diventare tossico ma c'è una persona che studia per il suo onore per io voglio dimostrare a tutti che sono un grande rabbino un grande oratore un grande diane e qua e su e giù e studia per il suo ego questo tutta la torre è tossica sa la torre a memoria ma perché lo fa per avere un buon nome un grande nome che tutti dicono ara avrà questo è tossico è vietato la torre non vuole questo la torre vuole che tu studi ad ora per migliorare te stesso per connettiti con dio capisci lina perciò dice anche a volte la torre può toglierti il gioco di hashem perché sei tu che lo intraprendi in un modo tossico ragazzi vi dico sono importantissime le vostre domande perché magari dopo da una cosa per scontato e va davanti invece le vostre domande sono causa di spiegazioni più più profonde ed è importante c'è solo la testa di esav proprio per questo motivo qua perché sapeva tutta la torre però non viene scesa nel cuore e il corpo è rimasto fuori e qui nella nel numero 5 nella cosa numero 5 infatti è molto chiaro Rebbe dice che la conoscenza da sola porta al distacco qui sopra dove si parlava della cabalat all dice far sì che la saggezza avvolgesse le non deve non deve queste cose emozioni e saggezza devono esserci tutti e due perché sennò non come dice come dici diventa tossica diventa tossica deve emozionarti la cosa sennò è una roba tossica sennò è una sola una roba per l'ego e non serve niente è vero esatto grazie 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 grazie